Ciao a tutti e bentornati sul canale più incasinato di YouTube Io sono Marco Caotico e oggi gratteremo un altro grattevinci, un miliardario Per cui direi di cominciare subito, perché so che a voi questi video vi piacciono subito, veloci, senza troppe chiacchiere Quindi cominciamo, monetina portafortuna, e direi di cominciare Anche se volevo solo un attimino invitarvi, io intanto inizio a grattare Volevo invitarvi ad andare a vedere i miei video di Sanremo, le reaction Perché c'è veramente da, diciamo, da divertirsi Allora, credo di aver già vinto qualcosa, ma inquadro un attimo la telecamera Ok, non so se riuscite a vedere, ho un pochino di robe a destra e a sinistra Ok, allora, ho grattato la prima fila e mi ha portato fortuna, perché ho trovato un E Nel frattempo ho visto che sul retro, ecco qui Ehm, dove sta? Eccolo qui Vale 500 euro, quindi abbiamo già vinto 500 euro Abbiamo il numero 24 33 51 20 42 Adesso faccio come ho fatto prima perché mi ha portato fortuna Facciamo direttamente così Ok, vabbè No, la fortuna non mi bacia più 17, 52, 30, 46, 23 36, 53, 14, 43, 48 37, 38, 13, 45, 11 Procediamo con i numeri vincenti Abbiamo il 22 Ehm, abbiamo il 23 qui Ok, il 22 non ce l'abbiamo, abbiamo il 21 Poi abbiamo il 31 E Il 31 non ce l'abbiamo, abbiamo il 13 Abbiamo il 39 39 e abbiamo 36, 37, 38 e non abbiamo il 39 Abbiamo il 29 Poi abbiamo il numero 15 E non c'è Poi abbiamo il numero 50 E sembrerebbe non esserci E infine abbiamo il numero 18 E non c'è perché stavo dimenticando di grattare per 2, per 5 e per 10 Vabbè, con la fortuna che ho io Comunque iniziamo dal per 2 Abbiamo un 28 E il 28 Non c'è Poi per 5 abbiamo il 44 Il 44 Non c'è Per 10 abbiamo il numero 16 E non c'è Abbiamo il 17, il 14, l'11 Ok, vedo un attimino se effettivamente qui abbiamo vinto 500 euro Ok, effettivamente ho guardato E sembrerebbe che abbiamo vinto solo qui Cioè, solo E sono 500 euro Ok, il Gratta e Vinci è stata una bella vincita Perché abbiamo vinto O meglio, ho vinto 500 euro Veramente direi ottimo Super, super, super E, che dire, adesso andrò ad investirli acquistando una stecca intera di Gratta e Vinci Sto c***o Grazie per essere stati con me Noi ci vediamo nel prossimo video Se volete vedere video A altri video di questa tipologia Fatemelo sapere lasciandomi un like Iscrivendovi al mio canale E magari lasciate qualche commento se vi fa piacere Ci vediamo nel prossimo video Ed io vi mando un grosso abbraccio Ciao